Buonasera a tutti, anch'io stamattina insieme a Matilde sono stato presente nella protesta degli agricoltori che si è tenuta presso il bivio di Resultano. Una protesta molto importante che ha come principi quelli che sono la tutela e la salvaguardia degli alimenti a chilometro zero, degli alimenti storici del nostro territorio e delle loro peculiarità. Penso sia molto importante cercare di far conoscere e soprattutto di dare dei diritti a questi prodotti perché rappresentano la nostra storia, la nostra cultura e sono prodotti unici dal punto di vista organolettico, dal punto di vista nutrizionale. Basti pensare per esempio a quelle che sono le tantissime varietà di grani antichi presenti in Sicilia, nomino quelle più conosciuti come ad esempio il percesacchio, la tumminia, che sono dei grani che ancora resistono a quelle che sono le importazioni, importazioni che molto spesso e volentieri sono dannose perché oltre ad venire da luoghi molto lontani vengono trattati con quelle che possono essere delle sostanze nocive per la nostra salute. Cerchiamo di consumare il chilometro zero perché effettivamente sappiamo da dove proviene, effettivamente sappiamo quelle che sono le normative e i disciplinari di produzione di questi alimenti, alimenti che come ho già detto sono unici per le loro caratteristiche, per la loro storia, per la loro cultura, per la loro stagionalità. Qui come dicevo bantiamo tantissimi prodotti tra cui anche formaggi a pasta e molle o comunque carni locali di allevamento o latteno strano che effettivamente hanno quella marcia in più rispetto ai prodotti importati. Alla base dell'alimentazione io dico sempre cerchiamo di scegliere con cauzione, di scegliere coscientemente e di scegliere con parsimonia perché solo in questo modo possiamo effettivamente vivere una vita sana, ricca di nutrienti e ricca di alimenti che effettivamente ci appartengono.